Quattro alberi in via Repubblica a Borgonovo ricordano William, Domenico, Elisa e Costantino i quattro giovani morti lo scorso mese di gennaio dopo essere finiti con la loro auto nelle acque del fiume Trebbia, alla Malpaga di Calendasco. L'idea dei quattro alberi è di un gruppo di 16 ragazzi valtidonesi che così hanno voluto ricordare i loro amici. Insieme ai quattro alberi è stata posizionata anche una targa che porta in presso una frase scelta sempre dal gruppo di amici. Con le radici nella terra e i rami volti verso il cielo si legge Così un albero si rigenera e così voi vivrete sempre in noi. Anche la scelta degli alberi, quattro ginkgo biloba, è stata fatta dagli amici di comune accordo con l'amministrazione comunale di Borgonovo. Sono alberi che esistono da 250 milioni di anni, alberi sacri e portatori di speranza simboleggiano l'amore, l'eternità e la lunga vita, hanno detto gli amici dei quattro sfortunati ragazzi durante la cerimonia. Volevamo ricordare nel modo giusto questi ragazzi, dandogli un posto dedicato a cui tutti potessero, diciamo, attingere nel senso venire qua e lasciare un pensiero o comunque dire una preghiera in loro memoria. Presenti anche i genitori dei quattro ragazzi che hanno liberato in cielo alcuni palloncini bianchi. Simbolo di purezza e libertà, come puri e liberi erano i loro figli, Domenico, Elisa, William e Costantino. Il fazzoletto verde di Via Repubblica, così ha promesso il sindaco Monica Patelli, verrà riqualificato. Attorno alle piante verranno posizionate panchine colorate con impresse note delle canzoni di William e Domenico, le stesse canzoni che sono state suonate durante la cerimonia. Aiutateci, hanno detto gli amici di William, Domenico, Elisa e Costantino, rivolti agli adulti, a far sì che il ricordo di questi quattro ragazzi non svanisca mai. Curate questo luogo come se fosse sacro, come fosse un luogo di pace. Grazie.